Elmo se n'è andato e non ritorna più Zanoli, Demme, Gaetano, chi lo sa? Mazzocchi e faraoni, oh oh, oh oh Mazzocchi e faraoni, oh oh, oh oh E poi c'è Itakura, e forse anche Scalvini Con Miners, e poi chi lo sa? Ricomincia il mercato, io ricomincio a dare i numeri E' così Stracandidi di Youtube La testa se ne va completamente per i fatti suoi Felice anno nuovo a tutti Anno nuovo, direi, vita vecchia Perché in fondo le cose che andiamo a fare sono sempre le stesse Così, come le cose che dovete fare voi, sono sempre le stesse Commenti al video, mi raccomando Cercherò di rispondere a tutti, ma vi garantisco che vi leggo tutti Mi raccomando, condividete i video su tutti i social E soprattutto, iscrizioni al canale Stracandido Allora Ho preso qualche appunto perché Onestamente Non ci capisco nulla Non ci capiremo nulla perché Potrebbe essere un gennaio Di quelli scoppiettanti Un gennaio come Non lo abbiamo mai vissuto Ma a che punto siamo? Allora, siamo al punto che E faccio prima una piccola precisazione Di certezze non ce ne sono Perché le certezze Ci sono e ci saranno solo al momento delle firme Perché altrimenti voi potreste dire Se andiamo a vedere i video Su Samarzic All'Inter Ad agosto Era già fatto Samarzic era andato a fare anche le visite mediche O vogliamo parlare di Gabri Vega Here we go Aveva detto qualcuno Salvo poi Ecco, quindi Facciamo soltanto un pur parler Di quello che è il momento Elmas È una certezza È andato a Lipsia Quindi Per forza di cose Siamo già sotto numero Anghissà Coppa d'Africa Osimè Come sopra Ma torneranno Chissà come Ma torneranno La voce Che va per la maggiore È quella di un Samarzic Vicinissimo Vicinissimo A momenti Potrebbe arrivare Il Via Libera Da parte dell'Udinese Con cui c'è già l'accordo Si sta discutendo Con il giocatore Con il procuratore Il papà Del giocatore Per l'ingaggio Dovrebbe esserci Un quadriennale Quattro e mezzo A due milioni e mezzo Non si parla ancora di clausole Quindi Questa dovrebbe essere la situazione Con Samarzic Sistemiamo Un po' il centrocampo Ma non andiamo a sostituire Elmas Samarzic E' il giocatore Che dovrà Andare a sostituire Zelinski Fin da subito La prossima stagione Anche perché bisogna capire Con Zelinski Che cosa si deve fare Perché se il ragazzo rinnova Bene Se il ragazzo non rinnova Giocherà Poco Altre uscite Le uscite Ovvie Su Zanoli Non ci ha mai creduto nessuno Quindi perché Continuare a fare i muri Contro muri Per non farlo uscire Zanoli Deve giocare Andrà A Genova Nuovalmente Questa volta Sponda rosso blu E vediamo quello che sarà in grado di fare Poi una volta che Tornerà alla base A fine anno Si vedrà A chi darlo Sperando che abbia fatto bene Che abbia Un buon mercato Demme Che ve lo dico a fa L'ingaggio è pesante Sarà difficile riuscire a piazzarlo A titolo definitivo Speriamo di riuscire a farlo Perché è un giocatore Ti abbiamo capito Non ci serve C'è poi Gaetano Che deve andare a giocare anche lui Perché abbiamo anche in questo caso Capito E faccio lo stesso discorso Che si può fare con Zerbin Che non sono adatti A stare a Napoli Perché Se tu vuoi lottare Per certe posizioni Non puoi tenerli in rosa Ci sono anche Alcuni nomi Perché poi bisogna Andare a sostituirli Alcuni di questi giocatori Per esempio Mi viene da pensare Alla difesa Noi ad oggi Abbiamo Come centrali Rachmani Wanjesus Ostigar E Nathan Rachmani Sembra essere Quello intoccabile Wanjesus Con buona pace mia Devo continuare a vederlo Ma per me È un giocatore Che è inutile Se deve giocare La titolare Perché Wanjesus Deve essere il rincalzo Uomo di spogliatoio Che all'occorrenza Ti può tornare utile Come è stato Nell'anno scorso In cui i titolari Erano chiari Rachmani E Kim Wanjesus Ogni tanto Giocava un po' qui Un po' là Qualche disastro qui Qualche disastro lì Ma che non appesantivano Una situazione Che invece era Bella Tranquilla Leggera Ora Di fronte al fatto Che debba essere lui Il titolare È un problema È un problema Perché non è Un titolare Non potrebbe mai esserlo E non potrà mai esserlo Perché non lo è mai stato Se invece Devi farlo giocare Sempre a titolare Poi alla lunga Le negatività Vengono fuori C'è Nathan Che è infortunato Per almeno un altro mesetto Mesetto e mezzo circa E poi bisogna capire I tempi di recupero Di rientro Di nuovo adattamento E poi c'è Su cui c'è un punto Di domanda Perché nessuno Sembra fidarsi Di questo ragazzo Quando per me Ha delle loti fisiche Molto importanti E se Dovesse decidere Andar via Avremo un grosso problema Perché poi alla fine Bisogna andare a prendere Uno Barra due Si fanno diversi nomi Io però ancora Non ho capito Quale possa essere Quello giusto Perché si è parlato Di Itakura Tornato in auge Itakura Si parla di Tomiasu Che però Pare stia rinnovando Con l'Arsenal Quindi diventa impossibile I sogni Dragusin E Scalvini Scalvini Sogno di vecchia data Dragusin È forse Il miglior Difensore centrale Della Serie A È anche un rendimento Affascinante Per tutta Europa Tant'è vero Che ci sta pensando Il Tottenham E quindi Il giocatore Su cui potrebbe andare Il Napoli È Vitic Dello Sparta Praga Che è un giovane Di belle speranze Molto ben strutturato Ma che Può dare apporto Fin da subito Cioè tu fai arrivare Vitic Quando hai Ostigard Che cosa gli dici? Leo Ho preso Vitic Come la vedi? Ma va a fanno Ti dice Ostigard Che caccia O prendi un Top Su cui punti Da qui in avanti Poi Vitic Potrà diventare top Magari lo è già Non lo sappiamo Però non devi andare A sfruculiare Degli equilibri Che sono già Molto sottili Quindi bisogna Stare attenti Anche a chi si va A prendere Certo Se tu andassi A fare un colpo Come Dragusin Allora sai Ti ritrovi Un giocatore Su cui decidi Di puntarci Da ora In avanti Servono Giocatori Pronti Now Domenica Si gioca col Torino Serve qualcuno Che lo metti Domani mattina Lì Sarebbe il caso Eh Due tre giorni In allenamento Un po' di confidenza Con i compagni E via Situazione Vice di Lorenzo Con Zanoli Che è in direzione Genova Sponda Rosso Blu Il Napoli Ha definito Con la Salernitana L'acquisizione Di Mazzocchi 3 milioni di euro È la base D'accordo Che hanno trovato Le due società Domani Il giocatore Sosterrà le visite mediche Sarà Fin da subito A disposizione Di Walter Mazzarri Che potrà utilizzarlo Come meglio Riterrà opportuno Però Un primo pezzo Quasi ufficiale È stato messo E quindi Un problema In meno Da affrontare In questa Sessione di mercato Invernale C'è poi sempre Il solito nome Che gira ciclicamente Che è quello di Theonkopf Miners Dall'Atalanta Però le cifre Che va a chiedere L'Atalanta Sono comunque alte Si parla Di qualcosa come 40 milioni Non è una questione Di soldi Il Napoli Non ha problemi Legati a Quanto può cacciare Perché il salvadenaio È bello pieno Quindi Non è un problema Di posso Non posso Il Napoli può Il problema è Vuole Punto di domanda E questo è Il discorso Chiaro che Ne hai portati a casa 25 per Elmas Il salvadenaio È bello pieno Ma qual è il calcolo Che tu devi fare Io oggi sono a 5-6 punti Non mi ricordo Dalla Champions League Devo entrare Nella nuova Champions League Che è più ricca Quindi È meglio Anche fare Un po' di anticipo Di cassa Per riuscire Ad arrivare Almeno Tra le prime 4 Perché questo È il ragionamento Che oggi De Laurenti Si è costretto a fare Perché quando Dopo Monza Lui si è un po' Aperto Dandosi tutte le colpe Di quella che è La situazione attuale L'ha fatto anche per questo Per dire Guardate che le colpe Non è che siano qua e là Le colpe sono mie Devo intervenire io Cercando di risolvere il problema Ma il problema Non è il problema È il suo di problema Perché se non ci sono le entrate È un problema Il problema 800 volte L'abbiamo detto Ma è così Quindi bisogna fare di tutto Per riuscire A risalire la china Di tutto Anche perché adesso Arriverà un periodo In cui Giocheremo le stesse partite Che giocano tutte le altre Faremo la supercoppa Le altre faranno Gli ottavi E i quarti Di Coppa Italia Poi avremo Il Barcellona Più avanti Per esempio Prendiamo una Juventus A Juventus A meno che non decida Di suicidarsi Farà Andata di torno Di Coppa Italia In quel periodo Come potrebbe capitare Una delle due romane Quindi Non c'è neanche più Il fatto di dire Giochiamo tanto Giochiamo lo stesso numero Di partite Di tutti gli altri Quindi anche per Mazzarri C'è l'occasione Di avere in mano Una macchina Un pochettino Modificata Provare a forgiarla Nel miglior modo possibile Per lanciarsi All'inseguimento Di un obiettivo Che è Almeno Il quarto posto Per andare in Champions League Nella prossima stagione E nella prossima stagione Non sappiamo ancora Quale sarà l'allenatore Ma ci potrebbe essere Una grande novità Perché pare Che De Laurentiis Abbia avuto Dei colloqui Con Petrachi Ex direttore sportivo Della Roma E del Torino Pare che ci sia Anche un certo Feeling Tra i due E Probabilmente De Laurentiis Ha capito Che lasciare Un vuoto di potere In una posizione Così importante Come quella Del DS Ma non tanto Per il mercato Anche per quanto riguarda I rapporti Con la squadra È stato un errore Grave Ed è stata una situazione Che ha sottovalutato Perché A un certo punto Quando le cose Non andavano con Garzia Ha dovuto farlo lui Era sempre a Castelvolturno Doveva controllare Doveva fare Queste cose Non le può fare Un presidente Deve fare Un direttore sportivo Con le palle E Meluso Che non sappiamo Neanche chi sia E perché ci sia Pare non essere L'uomo giusto Per vestire Questi panni Situazione in totale Di venire Quella del Napoli Il problema però qual è È che domenica Si gioca Si va a Torino E sono necessari Tre punti Perché già la classifica È corta E già bisognerà Fare un girone Di ritorno Top Per riuscire a Raggiungere Gli obiettivi Se cominciamo male Anche il gennaio È un problema Di solito Noi abbiamo Un brutto Bruttissimo rapporto Con la prima partita Dell'anno Anche l'anno scorso La perdemmo A San Siro contro L'Inter Quindi dobbiamo cercare Anche di sfatare Questo tabù In una situazione Di emergenza Anche perché È di oggi La notizia Dell'infortunio Di Alex Meret Con un gollini Che non sta ancora Benissimo E che quindi Ci obbligherà Forse A vedere in campo Ancora una volta Nikita Contini Che ha esordito In Serie A 20 minuti Contro il Monza E adesso potrebbe Esordire Da titolare In Serie A Quindi Se così dovesse essere In bocca al lupo Nikita È Camarone Da compagno Che cazzo ti devo dire Fatemi sapere Cosa ne pensate Amici stracandidi Io vi ringrazio Vi saluto È stata buona Che cazzo ti devo dire